Ma guarda, così siete anche simpatici Però possiamo decisamente fare di meglio Non si spreca il cibo Direi decisamente meglio Partiamo sfilettando un ottimo squalo Ottenendo ovviamente un ottimo merluzzo Tagliamo a tranci e ricaviamo dei bastoncini Farina in un piattino, due uova in ciotola Shakey shakey E nell'ultima ciotola panco Merluzzo nella farina, giù nell'uovo e giù nel panco Shakey shakey Andiamo in olio bollente Mentre frigge salsina tattica con maio, goccino di soia Goccino di sriracha e un po' di succo di limone Shakey shakey Ma quanto sono belli Codiamoli su carta assorbente Chiudiamo con un pizzico di saligno Non penso ci sia molto da dire Crispy test Mio malgrado sono pari merito Vediamo quanto sono juicy Direi che non c'è paragone Non c'è decisamente paragone